e vivere da solo come un sasso di un torrente che non ferma la corrente perché il tempo se ne va e lascia niente e io resto qua Buonasera a tutti i nostri ascoltatori da sanmangoradio.net Eccoci di nuovo in studio con il programma a tu per tu con la prevenzione condotto da me e saluto questa sera l'altra conduttrice che non è presente in studio la signora Grazia Labbaglio che va il mio saluto più grande essendo anche mia moglie ma il saluto più grande lo faccio al dottor Rescio che è qui con noi Buonasera a dottor Rescio Buonasera e intanto grazie per l'invito come sempre gentilissimi io svelo una cosa, oggi è il compleanno di questa radio quindi tanti auguri Grazie dottore, è vero sì, oggi sanmangoradio.net compie un anno di vita quindi sono orgoglioso di essere qui dopo un anno di attività abbiamo portato in porto tantissime trasmissioni e abbiamo portato in porto tantissimi successi uno di questi è ringrazio il cameraman personale di sanmangoradio.net Luciano che solo grazie a lui sono stati pubblicati sul nostro sito 173 video e abbiamo avuto oltre 21.183 visualizzazioni questo è qualcosa che ci fa onore e vi svelo anche un piccolo particolare siamo già stati in diretta sul canale digitale 687 sul canale di Hermes TV abbiamo avuto già grandi successi abbiamo già chiamato oggi la proprietaria e ci ha fatti i complimenti ciò significa che Sanmangoradio è una realtà di Sanmangoradio quindi siamo contentissimi di questo speriamo che anche la puntata di oggi abbia un buon ascolto sia in radio e sia sul digitale terrestre ricordo il canale 687 Hermes TV dottore buttiamoci subito a capofitto nelle domande oggi parleremo di una problematica importante del papillona virus ah dottore ci spieghi che cos'è questo papillona virus che tutti ne parlano tutti ne sentiamo parlare anche nelle scuole quindi ci illusi questa problematica ok questo è un argomento interessante di attualità estrema cos'è il papilloma virus? lo dice la parola stessa è un virus è un virus abbastanza comune ma la cosa più importante è che è la causa del tumore del collo dell'utero e quello che mi preme sottolineare è che è l'unico tumore di cui noi sappiamo la causa di papilloma virus ne esistono diversi ceppi sono stati numerati da uno siamo forse oltre i 150 tipi però quelli che interessano a noi sono pochissimi ed è il motivo per cui se ne sta parlando da alcuni anni ed è diventata diciamo una tematica abbastanza comune però devo dire ancora poco conosciuta anche da parte dei medici della classe medica perché ancora si ritiene che il tumore del collo dell'utero è tutta una serie di cose che è inutile sottolineare quello che è importante invece sapere è che visto che come dicevo prima il papilloma virus è la causa del tumore del collo dell'utero ed essendo il tumore del collo dell'utero l'unico di cui noi sappiamo la causa ovviamente il mondo scientifico si è organizzato per debellare questo benedetto tumore ed è già da alcuni anni che si pratica la vaccinazione per questo tumore Dottore, vaccinazione quindi informiamo subito i nostri ascoltatori il vaccino esiste e soprattutto è un vaccino gratis che lo offre lo Stato lo offre l'ASL oppure è un vaccino che si ha pagamento e soprattutto qual è la fascia d'età in cui va effettuato questo vaccino Ok, allora precisiamo che il mondo scientifico spera che nel giro di una decina d'anni almeno nelle nazioni occidentali evolute il tumore del collo dell'utero dovrebbe sparire grazie a questo vaccino Quando si fa il vaccino? Il vaccino per quanto riguarda l'Italia il Ministero della Sanità ma solo ed esclusivamente per un fatto di pura politica economica parliamoci in soldoni per carenza di soldi ha stabilito di vaccinare gratuitamente le ragazze 12 anni cioè 11 anni e un giorno 12 anni ovviamente tutti sappiamo che la sanità viene gestita poi dalle regioni e la regione Calabria andando nel pratico ha ovviamente recepito la normativa nazionale non poteva fare altrimenti e vaccina gratis le 12 anni c'è stato un periodo in cui c'era un surplus di vaccini per cui sono state vaccinate anche le 13 anni gratuitamente come funziona allora il vaccino una volta si tratta di due punturine niente di più e niente di più non è una cosa complicata da fare vengono fatti zero mesi e a sei mesi e a sei mesi punto funziona ovviamente creando degli anticorpi delle difese all'interno dell'organismo della ragazza e vi dicevo che il Ministero della Sanità ha stabilito i 12 anni in Italia però il vaccino pare che si possa sicuramente si può fare iniziando dai 9 anni dove dovrebbe avere una maggiore efficacia però noi ci dobbiamo attenere a quelle che sono le disposizioni ministeriali quindi parliamo di 12 anni chi può fare il vaccino allora la fascia di età è compresa fra i 11 anni e un giorno è in Calabria fino a 27 anni per le 12 anni vi dicevo è gratis arriva faccio un'altra precisazione tecnica normalmente vengono invitati cioè arriva una letterina a casa della ragazza ed è invitata all'ufficio vaccinazioni del comune dell'azienda a recarsi il giorno totto l'ero totto per fare la dose di vaccino ovviamente se non va quel giorno non succede assolutamente niente se non può andare va un altro giorno per tutte quante le altre cioè da 12 anni a 27 il vaccino in Calabria viene dato con lo famoso co-payment che non è altro che il ticket e è un ticket che come direbbero ai supermercati paghi uno e prendi due perché in fondo una fiala di vaccino costa intorno a 180 euro il ticket si aggira a 60 euro quindi se ne paga poco tutto sommato come fare per farlo il vaccino non è in vendita in nessuna farmacia il vaccino ce l'hanno soltanto gli uffici vaccinazioni per cui chi volesse fare il vaccino al di fuori al di fuori da questa da questa fascia di età gratuita deve sempre recarsi all'ufficio vaccinazione dove viene consegnato un bollettino postale viene fatto il vaccino vai a fare il pagamento del ticket un'altra precisazione se alle ragazze 11 anni e un giorno visto che ci ascolta un po' di gente non arriva la lettera a casa ed è in quella fascia di età è opportuno che ci si direi che all'ufficio vaccinazione e si dica che non è arrivata l'invito perché tante volte vuoi per disguidi postali vuoi perché l'ufficio anagrafe ha dato un indirizzo che avevamo prima e che non abbiamo cambiato quindi magari l'invito non arriva però basta recarsi all'ufficio vaccinazione io farei a questo punto un'altra precisazione se non hai dottore lei è l'ospite può fare quello che vuole no assolutamente no io mi chiedo scusami ho letto una domanda gliela faccio subito dopo lei può fare quello che vuole è a casa sua no grazie no volevo fare questa precisazione che è questa questo è un vaccino che non ha nessun effetto collaterale perché ancora noi sentiamo mamme che giustamente vengono a chiederci sì ho parlato però ho paura che poi gli effetti collaterali gli facciano venire il tumore la malattia o l'infezione eccetera eccetera la domanda era proprio questa una ragazza ci ha scritto vaccino sì o vaccino no quindi perché farlo o perché non farlo perfetto e allora avete letto la domanda no no assolutamente allora si tratta di un vaccino innocuo è un vaccino che è stato creato in laboratorio per farmi capire meglio io in genere porto questo esempio per le ragazze che fanno la vaccinazione per la rosolia la punturina che fanno non è altro che il virus vero vivo solo che è stata ridotta la potenza cioè l'altro esempio che io porto ci sono alcune nazioni per farmi capire perché è un po' difficile l'argomento ci sono alcune nazioni in cui i governi hanno stabilito un limitatore di velocità da installare sulle macchine ad esempio 100 km orari allora noi possiamo comprare benissimo la ferrari però pigiando l'acceleratore non va avanti quello della rosolia è un vaccino vivo attenuato però è un vaccino vivo questo dell'hpv è invece un vaccino che è creato in laboratorio dove non c'è virus attenuato ma c'è semplicemente una componente che mima la stessa componente del vaccino vivo in parole povere è tipo un robot al quale noi possiamo fare tutto quello che vogliamo ma resta sempre un robot non può decidere non può fare niente quindi in soldoni non può fare non può creare l'infezione da hpv e non può dare non può fare la malattia non può creare e dare origine alla malattia quindi è sicurissimo al 100% c'è stato sulla stampa e ancora se si va sui siti internet si trovano che ci sono stati 5-6 morti nel mondo in seguito alla vaccinazione è stato visto è stato dimostrato che nel vaccino dell'hpv non c'entrava assolutamente nulla il vaccino va fatto va fatto perché è un salvavita si tratta di due punturini innocue ma che alla donna possono tranquillamente salvare la vita sicuramente salvare la vita al momento non bisogna fare richiami perché se visto che la durata degli anticorpi si aggira intorno ai 20 anni quindi non abbiamo grossi problemi per andare a fare richiami e così via al momento ripeto non ci sono effetti collaterali quindi il suggerimento il consiglio è quello di vaccinarsi un'altra falsa convinzione che c'è in giro è questa che il vaccino va fatto alle ragazze che non hanno avuto attività sessuale rapporti sessuali invece un'altra ragazza ci dice va fatta prima o dopo il ciclo ovviamente lontano dal ciclo perfetto allora dicevo gira questa cosa che in effetto all'origine si diceva ed è il motivo per cui si fu stabilito i 12 anni per fare la vaccinazione ma si è visto che il vaccino si può fare anche dopo tant'è che per esempio ripeto la regione Calabria lo fa fare fino a 27 anni perché si è visto che comunque ha un suo effetto e la cosa più semplice che fa è quello di ridurre la potenzialità dell'eventuale infezione che quella donna ha perfetto dottore è stato chiarissimo purtroppo quando si parla di malattie del nuovo millennio diciamo questi i tumori sono le malattie del nuovo millennio quindi secondo me dico anche la mia il vaccino va effettuato forse perché secondo me c'è una malinformazione in Calabria secondo me quando si invitano queste ragazze hanno portato anche penso un fogliettino dove può rassicurare i genitori dell'importanza del vaccino ma rimanendo sempre sul tema di malattie importanti io so che lei lavora all'ASP di la mezza term con tantissimi dottori che salutiamo siete davvero un pool fantastico no no siete fantastici veramente vi saluto tutti quanti che abbiamo fatto tantissime manifestazioni tantissime collaborazioni con voi sul territorio una cosa molto importante che abbiamo visto sul lato ginecologico sul lato delle donne oltre la mammografia che oggi non ne parleremo ma ne parleremo in un prossimo appuntamento un prossimo programma perché io lo dico sempre la prevenzione è la cura migliore quando qualcuno cerca di fare qualcosa cerca di prevenire perché quando lo sappiamo benissimo dottore perché quando il male dà già i segnali ormai è troppo tardi ma spostiamoci il discorso ma rimaniamo sempre sui tumori riguardanti il campo ginecologico PAP test ne abbiamo fatto tantissimi con lei sul campo ed è qualcosa di veramente importante e utile il PAP test spieghiamo i nostri ascoltatori i nostri telespettatori quando va effettuato a che età va effettuato e qual è la fascia di età gratuita e quindi poi se vogliamo dare anche una chicca quindi salutiamo la dottoressa Maria Paola Montesi del centro screening della Misederme magari se lei ricorda può dare i numeri e i giorni i numeri no i numeri no comunque ci sono sul sito dell'azienda ricordiamo qual è il sito dottore www.asp.cz.it e lì c'è il centro screening e ci sono tutti i numeri perfetto quindi i numeri li abbiamo dati adesso il dottore ci parlerà del PAP test allora prima di parlare del PAP test un flash rapidissimo in questi giorni si sta in quest'ultimo periodo si sta discutendo anche della vaccinazione per i maschietti perché il papillomavirus che è una cosa che mi era sfuggita prima ovviamente crea tumori da origine tumori anche nei maschi e si sta almeno le società scientifiche stanno premendo sul ministero per fare per vaccinare una fascia di età anche nei maschi a dire il vero già Stati Uniti Canada Australia stanno già vaccinando anche i maschi per quanto riguarda il PAP test il PAP test è anch'esso un esame salvavita un'altra precisazione per il momento chi ha fatto il vaccino per il papillomavirus deve continuare a fare il PAP test la fascia di età da domanda così prima che ci sfugga la fascia di età gratuita del PAP test va dai 25 ai 65 anni il PAP test va fatto ogni 3 anni ovviamente il centro screening diretto da Maria Paola Montesi qualora in un PAP test ci dovesse essere qualche problema richiama la donna e vengono fatti tutti gli esami di secondo terzo livello e così via perché il PAP test è un esame di screening che ci dice tantissime cose pensate che da quando il PAP test è stato fatto di routine diciamo così i tumori del collo dell'utero sono ridotti quasi di oltre il 70% quindi un successo enorme e però devo dire anche che noi abbiamo una popolazione di donne che ancora è antipatico dirlo però che ancora non fa il PAP test cioè noi non abbiamo non dico il 100% ma almeno il 90% della popolazione dovrebbe fare il PAP test non ci siamo dottor torniamo al discorso che abbiamo fatto prima scusate se la interrompo quindi possiamo dirlo francamente in Calabria c'è un problema di informazione questo è vero noi l'abbiamo visto sul campo quante persone non sono venute da noi a fare il PAP test o a prendere la provetta del tumore al colon o a fare la mamografia perché? perché avevano paura o magari non sanno cosa vanno incontro cioè questa malinformazione in Calabria è forte allora in Calabria manca l'informazione nel senso che questo ovviamente è la responsabilità della classe medica perché fare informazione non è una cosa difficile voglio dire noi stiamo per esempio attualmente sul territorio stiamo facendo prevenzione per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmesse per quanto riguarda l'HPV virus per quanto riguarda la contraeccezione e ci siamo dovuti rendere conto che noi davamo delle cose per scontate e non lo erano affatto così stiamo facendo prevenzione degli incontri per quanto riguarda l'altro grosso argomento che è la menopausa e facendo questi incontri tante donne alla fine della chiacchierata che noi facciamo si fermano per dire ma a me questa cosa non l'ha mai detta nessuno e perché la classe medica io non ho come si dice in dialetto peli sulla lingua la dico siamo un po' superficiali e la prevenzione resta l'anima della medicina resta l'obiettivo resta la missione cioè noi non ci dobbiamo preoccupare di fare terapia ma ci dobbiamo preoccupare di fare prevenzione quando siamo costretti a fare terapia abbiamo fallito per cui tornando al pap test l'invito è il pap test si fa ogni tre anni la dottoressa il centro screening nostro dell'area la metina si sta facendo voglio dire fa i salti mortali per cercare di far capire a queste donne venite a farlo come funziona ogni tre anni c'è un anagrafo arriva la lettera a casa di invito di recarsi al centro di prelievi più vicino tra le altre cose lo dicevi prima noi abbiamo fatto proprio per cercare di come dire di facilitare abbiamo fatto diversi incontri nei vari comuni dell'interland andando noi direttamente insieme alle ostetriche che spesso sono venute al di fuori dall'orario di servizio quindi fuori dall'orario di servizio proprio per andare a fare il pap test quasi a casa e nonostante tutto non è che ci sia stata questa grossa però voglio dire già abbiamo smosso alcune posso solo così ringrazio anche l'associazione giorni di ripartiamo dal sud ricordo che insieme a voi e l'associazione giorni di ripartiamo dal sud sono stati effettuati i pap test e il coronavetto nei comuni di Noceva San Mango Martirano Vecchio e Motta Santa Lugia sì noi poi l'abbiamo fatto anche abbiamo fatto anche Platania abbiamo fatto anche Martirano Lombardo non so forse qualcun altro per ringraziare i miei ragazzi che sono sempre lavoratori ma diciamo che l'idea non l'avevamo avuta ma poi grazie proprio alla vostra associazione poi ci siamo un po' impegnati di più perché ci avete dato anche come dire l'input o la spinta come vogliamo chiamare quindi ripeto però vi arriva alle signore alle donne arriva la lettera a casa però qualora non dovesse arrivare e sono passati i tre anni o se si ha il dubbio basta recarsi nei vari consultori al centro screening senza niente verrà detto quando lo possono fare se sono passati i tre anni spesso a meno che non c'è grossa confusione cosa succede che se non ci sono voglio dire problemi per fare il prelievo in seduta stanza si fa il prelievo un'ultima cosa che volevo aggiungere il pap test è gratuito dai 25-65 anni però il pap test lo deve fare lo devono fare tutte quelle donne all'inizio dell'attività sessuale cioè se il rapporto sessuale inizia a 15 anni da 15 anni con l'impegnativa ovviamente che si paga quattro soldi certo certo dottore stiamo affrontando un argomento molto delicato molto ampio però ahimè i tempi stringono cioè noi abbiamo mezz'ora di tempo sì certo e non possiamo dare tutte le informazioni in mezz'ora non possiamo dare tutte le informazioni però mi piace leggere questo messaggio che mi ha inviato prima una ragazza qui anche molto di ho avuto dei rapporti avverto dei bruciori candida o che cosa posso fare o la candida o come posso venire o la candida o qualche altro tipo di infezione allora parliamo fino a domani mattina non lo sappiamo allora una bella domanda non lo sappiamo e non possiamo ovviamente dare nessuna risposta perché qui allora prima di entrarci in questo la candida è una malattia sessualmente trasmettibile quindi ce ne sono tantissime malattie che sono trasmettibili sessualmente ricordiamo anche l'AIDS che è una delle piaghe che affligge l'umanità dove purtroppo anche le mamme davanti alla gravidanza sono portatori di queste malattie dottore ci parli anche quindi subentriamo nel campo delle malattie sessualmente trasmissibili quali sono i rischi di queste malattie quali sono le malattie più conosciute e se una malattia sessualmente trasmettibile può essere causa anche di tumore eh sì questo ci sentiamo fino a domani mattina e allora poi parliamo allora le malattie e la trasmissione sessuale sono una marea possono rispondere subito alla domanda più 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 importante tra virgolette che è quella della se le malattie a trasmissione sessuale possono provocare il tumore certo è quello che dicevamo prima il papillomavirus il papillomavirus è una malattia prevalentemente a trasmissione sessuale che è causa come dicevo prima del tumore del collo del dottore chi è portatore di questa malattia sia gli uomini che le donne allora noi andiamo nelle scuole quando andiamo nelle scuole spesso i maschietti fanno come dire i piccoli bulli poi quando gli diciamo determinate cose allora è una malattia reciproca noi in genere facciamo vedere uno schemino per fargli capire com'è facile la diffusione che sicuramente è causa di tumore le altre dalla clamidia alla sifilide alla candida alla tricomonas e così via sono una marea che non sto qui ad elencare non provocano tumore però ovviamente facilitano sono degli agenti che possono facilitare l'insorgenza di una cellula già alterata per fattisola possono aiutarle le malattie della trasmissione sessuale sono enormemente si sono enormemente incrementate in questi ultimi anni e non è dovuto come si dice solo ed esclusivamente all'immigrazione secondo me sono i ragazzi più svegli adesso c'è una precocità delle fasce di età certo c'è una precocità però ripeto perché molti danno la causa a questi poveri cristi di immigrati che sì è vero portano anche loro queste malattie a trasmissione sessuale ma è anche vero che esiste un turismo sessuale e che dilaga turismo sessuale ne sentiamo parlare alcuni argomenti ci sono delle persone cinquantenni sessantenniche quindi stendiamo un velo piatoso sono delle malattie che si stanno incrementando purtroppo per esempio la sefilide era una di quelle malattie che era completamente quasi scomparsa alla fine del diciamo secolo scorso e invece adesso c'è un incremento enorme per cui il suggerimento attenzione noi diciamo spesso quando andiamo nelle scuole superiori attenzione se avete dubbi fatevi sentire però può sembrare un argomento un po' ostico così rapporti sì però protetti e soprattutto se non vi conoscete bene attenzione non diciamo che dovete chiedere il certificato medico però pigliate le prevenzioni perché le prevenzioni ci sono esistono i famosi condomo che sono l'unico sistema per prevenire queste malattie ovviamente noi diciamo sempre a tutte al minimo sintomo non tenetevelo perché se vi fate vedere magari basta la compressina e abbiamo risolto il problema quando si va avanti diventa un problema le strutture pubbliche sono sempre a disposizione voglio dire per qualunque cosa possono telefonare se possono farsi sentire non ci sono problemi voglio dire però l'importante è non tenere ecco nel caso delle mail lì noi non possiamo dare nessuna risposta perché può essere la candida ma può essere di tutto di più o di nulla è vero dottore come abbiamo detto prima il tempo è denaro il tempo scorre è stato molto bello parlare con lei ma posso già dare una chicca che il dottore avrà presto a trovarci di nuovi studi e parleremo di un altro bellissimo argomento quale la gravidanza quindi approfondiremo il suo campo allora io saluto tutti saluto il dottore se il dottore vuole fare un saluto io saluto tutti gli ascoltatori e i telespettatori ovviamente ma soprattutto ringrazio Carmine e tutto il suo gruppo Radio San Mango perché si è stavolato un rapporto così bello di collaborazione che ci fa sempre piacere essere presenti ma soprattutto perché penso che riusciamo a dare delle informazioni utili e soprattutto pratiche ovviamente questa che è creata non abbiamo detto nulla di scientifico ma penso che non servirà assolutamente a nulla quindi grazie di nuovo veramente di cuore grazie a voi dottore grazie di essere stato qui in studio io ne approfitto salutando tutti salutando il general il general manager Angelo Notarianni che oggi ci ha dato la possibilità di essere qui e festeggiare il nostro primo compleanno quindi un anno di sammangoradio.net la tua radio ricordo a tutti quanti che ci potrete vedere di nuovo sul canale del digitale terrestre 687 mstv vi ringrazio nuovamente e vi do vi ricordo anche l'indirizzo dell'ospedale di Tlamezzaterme www.asp.cz.it www.asp.cz.it perfetto è stato più chiaro il dottore comunque nel dubbio è sempre meglio chiedere perché io dico una frase sempre che è la mia la sicurezza non va mai in licenza essendo io un militare quindi la uso sempre e poi ricordate amici telespettatori amici radioascoltatori che la prevenzione è la cura migliore alla prossima un abbraccio grazie a tutti arrivederci